Crida Studis Un paio di cuffie con degli appunti visivi invece proiettati per tutto il pubblico in sala. Il concerto è suddiviso in due movimenti più un prologo, il primo movimento parla più della storia cinematografica, del rapporto tra fantascienza e cinema e il secondo movimento invece va ad approfondire le tematiche della contemporaneità, della fisica, dell'astronomia e dell'astrofisica.